Massimo Caleo, 57 anni, Partito Democratico, coalizione di centro-sinistra. Sono vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato. Per completare un lavoro che è stato svolto per la mia provincia, per il mio territorio, nella passata legislatura, che necessita ancora di interventi. Il costo del lavoro, l'abbassamento delle tasse e l'accesso al credito. Sono questi i punti che io ritengo indispensabili affrontare nella prossima legislatura. Un punto di continuità con l'attuale governo. Noi siamo stati promotori del distretto turistico. Nel distretto turistico ci sono molte imprese artigiane. C'è se parte, c'è burocrazia a zero, progetti collettivi e una imposizione fiscale più bassa, agevolata. Nessun punto di discontinuità se non quello di puntare un po' di più l'obiettivo sul costo del lavoro e sulla imposizione fiscale. Credo che questi siano obiettivi che noi dobbiamo completare nella prossima legislatura. Soprattutto riguardano le infrastrutture e noi stiamo lavorando nella nostra provincia per la linea Parma-La Spezia, che collega il nostro porto alla pianura padana e all'Europa. Quindi infrastrutture e difesa del suolo. Credo che siano due elementi che servono anche alle imprese. Un'azione concreta per ridurre la spesa pubblica, secondo me, bisognerebbe aumentare ancora di più il controllo sull'evasione fiscale e qualche spesa che non serve, soprattutto riordinare la spesa sulle opere importanti, cioè spendere meglio sulle opere importanti. Un'azione concreta per abbassare la tassazione bisognerebbe individuare un sistema per le piccole e medie imprese che abbassano la tassazione sulle società. Credo che sia uno dei programmi del prossimo governo del centro-sinistra. Un'azione concreta per creare occupazione stabile è quella di intervenire sul costo del lavoro e sulla progettualità. Quindi abbassamento del costo del lavoro e progettazioni condivise per quanto riguarda il nostro territorio Ligure. E certamente, passata la bufera sulle banche, io credo che il governo dovrebbe, con tutto il sistema bancario e creditizio, dovrebbe sedersi a un tavolo e stabilire dei percorsi preferenziali per coloro i quali hanno voglia di investire, soprattutto i giovani, eliminando quelle noiosissime parametri tecnici, ma individuando proprio in maniera soggettiva i progetti migliori per poter attivare forme di prestiti, crediti agevolati per chi vuole intraprendere. Un esempio concreto di burocrazia più snella è il distretto turistico. Le imprese operanti all'interno del distretto turistico della Val di Magra e della Val di Vara, che partirà tra poco, troveranno lo sportello unico dove c'è scritto burocrazia zero, cioè tutto quel sistema che appesantisce il lavoro dell'impresa e distoglie dai problemi veri i proprietari di questa impresa. Sicuramente il collegamento ferroviario tra la Spezia e la pianura padana e l'Europa, la Parma-La Spezia, la cosiddetta Pontremolese, domani incontrerò la comunità del porto e gli comunicherò che l'impegno per questa infrastruttura non è mai cessato e se assieme facciamo un'azione comune si può portare a casa. Un'azione concreta è il costo del lavoro, insomma forme agevolate di assunzione, benefit per chi assume. Credo che questa sia nel contempo corsi di formazione professionale per preparare questi nostri giovani. Asili nido, servizi alla persona, bonus particolari che sono già stati fatti nella precedente legislatura, bisogna completare questo percorso, la donna credo che abbia tutto, debba avere tutta la necessaria considerazione. Ieri ho visitato una fabbrica dove all'interno c'era un asilo nido, quindi si possono fare tante cose con buona volontà. Il mio primo impegno per le imprese Liguri è quello di verificare assieme a loro il sistema migliore per l'abbassamento dell'imposizione fiscale e per migliorare le nostre infrastrutture Liguri. La Liguria è bella, le imprese della Liguria sono preparate, aiutiamole. Hashtag impresa bellissima Ligure.